Buon martedì 24 gennaio. Un altro mondo è possibile. Uno slogan, ma soprattutto un invito fatto da maschi, femmine, persone di ogni età, in quel lontano luglio del 2001, nel quale scesero in piazza, accomunati da una speranza e da un desiderio comune di una vita intensa da vivere nel qui ed ora, lontano, nei luoghi del potere famelico, bulimico. Vivere una dimensione pacificata dell'esistenza, le bandiere della pace, quegli arcobaleni che richiamano la bellezza dell'armonia delle diversità. Tutto questo scese in piazza con passione e entusiasmo, ma il potere di fronte a quella manifestazione pacifica di un desiderio intenso, esistenziale, antropologico, represse nel sangue, quella rivolta di popolo, non certo populista, una rivolta aperta a una considerazione globale della vita su questo pianeta, perché metteva in discussione quel movimento, la geopolitica, sottoposta sempre di più agli interessi economici di oligarchie di miliardari, i quali lucrano attraverso la riconversione dei mercati illegali, della droga e del traffico d'armi, ma si arricchiscono anche tramite la crescita esponenziale della costruzione delle armi. Sarebbe necessario reintrodurre il tabù della guerra. Dico reintrodurre, di fatto non è mai stato introdotto, ma un certo timore è sempre esistito nell'essere umano di fronte alla sua espressione di aggressività. Le battaglie si combattevano in campo aperto, oggi si combattono a distanza col trucco e l'inganno della tecnologia, generando stragi di vite umane e contemporaneamente assistiamo all'arricchimento di persone ciniche spietate, le quali hanno addirittura costituito degli eserciti privati e mercenari. Non mi meraviglierei se entrassero anche in borsa. Ma voglio ritornare a quel luglio del 2021 nel quale si affermava che un altro mondo è possibile, non domani, dopodomani, chissà quando, quando le diplomazie avranno sedato, le ansie di possesso di oligarchi psicopatici. Ed è un regalo quello di definirli psicopatici, perché in realtà sono semplicemente delle persone cattive. Ma nel rispetto che abbiamo di ogni persona umana, anche nei confronti di questi cinici spietati, protagonisti della mortificazione della vita, dobbiamo sempre tenere presente che sono esseri umani, sono persone. E pertanto immaginiamo che nel loro intimo abbiano conosciuto una sofferenza profonda, che non hanno saputo interpretare. Vivere in una dimensione comunitaria è la responsabilità, è di tutti noi, nel momento in cui non ci facciamo protagonisti di una vita realmente comunitaria e pacificata, che ponga a punto la questione del tabù della guerra. Il tabù è una una entità che non si può violare, pena la tragedia. Ci siamo liberati di tanti tabù impropriamente. Abbiamo banalizzato la sessualità attraverso la liberazione dal tabù del sesso. un'operazione di semplificazione e di banalizzazione, di una dimensione dell'essere umano molto significativa per vivere in armonia e in serenità. La ricerca armoniosa del piacere è attraverso i corpi, nella diversità, nella difficoltà di comprendersi. Viviamo in una società edonista e anedonica, mi spiego meglio. Viviamo in una società che è continuamente alla ricerca di scorciatoie per il godimento e contemporaneamente è incapace di vivere il piacere che la vita ci riserva, se sappiamo coltivare questo piacere. Ma siamo chiusi noi stessi, è impossibile vivere la sessualità nell'egocentrismo. La sessualità è possibile solo nella relazione e la relazione è possibile solo se si ha consapevolezza della diversità che sempre esisterà tra le persone. Una diversità che contiene anche elementi che possono dare fastidio dell'altro, ma anche noi diamo fastidio per certi aspetti agli altri. Ma accantoniamo le cose negative. Concentriamoci sulle potenzialità che abbiamo, sulle ricchezze e le risorse anche nelle condizioni più estreme di indigenza. Possiamo essere protagonisti di un percorso di crescita e maturazioni, il quale parla alla comunità. Testimonia è un po' quel granello di senape che genera una pianta meravigliosa, la più grande, così come ci racconta la parabola evangelica. Il più piccolo tra i semi genera un grande albero che ospita la vita, esemplificato negli uccelli che nidificano in quell'albero. Questa rappresentazione ci porta a riconsiderare con grande senso di speranza la vita del club come un granello di senape che però germoglia, pur nella piccolezza dell'esperienza del club, un albero meraviglioso, intensamente capace di liberare tutti noi, dalla tendenza atavica del giudicare il prossimo, dalla tendenza che abbiamo di considerarci migliori degli altri o cadere nello sprofondamento della depressione perché non riusciamo a cogliere elementi positivi in noi stessi e a questo punto cresce la rabbia e l'ansia nelle dinamiche della vita. E questo momento vissuto nell'esperienza del club una volta alla settimana abbia la fecondità di far crescere giorno dopo giorno una ricerca costante della vita bella e armoniosa. Anche laddove ed è inevitabile si creano condizioni di difficoltà, di problematicità. Forse anche il problema è la parola problema, dovremmo incominciare a eliminarlo perché questa parola porta inevitabilmente a una postura esistenziale tesa alla soluzione piuttosto che all'approfondimento di ciò che ci viene rappresentato di fronte a noi. Noi non siamo chiamati a risolvere l'altro, a considerare l'altro come un meccanismo rotto da risolvere. Dobbiamo cogliere proprio nella diversità dell'altro la genesi di una domanda che ci interroga profondamente e che ci porta nelle dinamiche della cultura esistente, la quale dovrebbe essere costantemente messa in discussione. Cambiata, sì, perché non ci sono ideologie che ci possano garantire la rivoluzione definitiva e ci porti alla costituzione di un nuovo ordine mondiale. So che sto facendo dei discorsi apparentemente astratti, ma io penso che al di là della elucubrazione e astrazione che nasce dall'esperienza del club, dobbiamo prendere atto che questa esperienza è ricchissima di elementi che ci portano a rivedere la nostra visione, la nostra postura esistenziale, il nostro modo di vivere, i nostri stili di vita. Probabilmente dobbiamo riprendere confidenza con concetti quali sono stili di vita, modi di vivere, non perché chi vive nel club abbia la possibilità di manifestare uno stile di vita perfetto, ma semplicemente perché chi vive nel club non solo si lascia alle spalle il passato senza negarlo e ometterlo, senza rimuoverlo, conoscendolo profondamente, ma senza cercare una causalità lineare che ti inchioda in una paralisi esistenziale carica di rabbia, di aggressività, di impossibilità di percorrere una strada di crescita e maturazione ricca di piacere, ricchissima di serenità, di umiltà. E questa si coglie nell'esperienza quotidiana quando incontri l'altro. E questo ci riporta ovviamente anche una rivisitazione profonda delle teorie che il mondo professionale ha costituito e incasellato nella nostra cultura, paralizzandoci in questa causalità lineare che trova giustificazione nel passato per ciò che accade nel presente ed è incapace di rivolgere lo sguardo altrove, di trascendere, perché anche questa è una parola che il professor Ludone ci ha lasciato in eredità, trascendere, che significa estrofletterci e non introfletterci. L'introspezione, a mio parere, è antitetica rispetto alla modalità della meditazione della trascendenza, che è un lasciarsi attraversare dalla vita, da un pensiero che non controlliamo. E questo attraversamento della vita ci riporta a una ricerca ecologica dell'armonizzazione. Certo, è vero, noi lo facciamo attraverso un'analisi molto spesso parziale, limitata, quello del consumo di bevande alcoliche. In questi giorni, lo ricordavo ieri, abbiamo vissuto l'ennesimo dibattito tra scienziati, lo dice la scienza, e la scienza dice una cosa e anche il suo contratto. È parziale, esprime opinioni, è anche molto supponente, e se si pone in questo modo non è più scienza. Siamo appena usciti da un dibattito devastante, a mio parere, relativamente all'epidemia, ne subiamo ancora le conseguenze. Pensate alla presenza di malattie infettive stagionali, influenza, bronchiti, raffreddori, malattie che un tempo erano considerate da raffreddamento. Ebbene, ancora è in uso il tampone come punto di discriminazione sulle misure comportamentali da prendere. Se hai raffreddore e un tampone positivo, devi autoconfinarti per 5-7 giorni, ovviamente se dopo questi giorni non hai più sintomi o comunque si sono largamente attenuati. un briciolo rispetto a ciò che è accaduto relativamente al distanziamento, che forse allora poteva anche essere necessario, visto il traballante sistema sanitario che avevamo costruito nel corso dei decenni, avevamo desertificato di risorse. Ma c'è un altro elemento sul quale troviamo uno strascico particolarmente doloroso. Chi vive l'esperienza della malattia e viene ricoverato, oltre che l'ansia, il dolore, la sofferenza generato sempre dalla malattia, inevitabile, abbiamo paura, è legittimo, è umano. Ebbene, in quei momenti avresti bisogno del conforto delle persone care, magari anche continuativo, se è possibile più volte al giorno. È un semplice gesto umano, quello del conforto, che ha un profondo significato per il nostro corpo e contribuisce in modo significativo al ripristino di condizioni di salute nonostante la malattia. E qui veniamo all'affermazione dell'OMS, la salute non è mera assenza di malattia, la comprende anche, ed è un equilibrio biologico, relazionale, affettivo, sociale. Se noi incominciamo a mettere in discussione questo equilibrio, desertificando di fatto la dimensione relazionale, perché lo impone ancora una volta la positività, il Covid, non si sa mai, e quindi le visite sono permesse per un breve spazio di tempo al giorno e una persona sola. Ma pensate all'assurdità di questa modalità di vivere e condividere il momento della sofferenza. Contemporaneamente, ovviamente, negli ospedali rischiamo di essere contagiati da batteri antibiotico resistenti. Il personale va e viene, ed è continuamente sottoposto a questa, che voglio definire, angheria. Dei tamponi e, soprattutto, della disseminazione di una paura, che impone e spinge al distanziamento. Io non voglio entrare nella polemica, vaccini sì, vaccini no, ma una postura esistenziale radicalmente diversa è necessaria, perché oggi questo dibattito intorno alle etichette riecheggia quella contrapposizione che poi troviamo nel mondo dei disturbi del comportamento, proibizionisti e antiproibizionisti. A volte queste modalità di porsi nei confronti dei rischi della vita si sovrappongono. Oggi tocca al consumo di bevande alcoliche, addirittura abbiamo individuato una terza categoria, oltre agli astemi, agli astinenti, anzi quarta categoria. Astemi, astinenti è naturalmente l'astinenza legata a quanti vengono ancora considerati alcolisti. Non illudiamoci. Noi abbiamo eliminato la parola, ma non abbiamo eliminato la matrice culturale generativa di quella parola. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma ci sono poi anche i consumatori cosiddetti moderati. responsabili. E infine vi è la categoria degli occasionali che bevono una tantum in luoghi esclusivi, nel ristorante Stellati. Ecco, tutto questo ci porta a una neoclassificazione, categorizzazione dell'esistenza, che è radicalmente antitetica all'esperienza del crepe, il quale non è esperienza né di mera astinenza, né dell'essere astemi per forza di cose, neppure luogo nel quale si coltiva la moderazione del bere, ma neppure il luogo nel quale si individua una occasionalità virtuosa nel poter consumare bevande alcoliche. Il club non ha filtri selettivi, accoglie astemi i bevitori, indipendentemente dalla quantità di alcol che bevono, e cerca il club di mettere in evidenza come ogni consumo di bevande alcoliche, compreso quello occasionale nei ristoranti Stellati, è una ricaduta qualitativamente simile a quella che noi attribuiamo all'alcolista. Tutto qua, certo. C'è poi la questione della quantità, non c'è nessun dubbio, ma noi non siamo qui per quantificare la vita, ma per dare qualità alla vita, e qualità alla vita significa disporci sul piano del comportamento, degli stili di vita e del rapporto con le sfumature comportamentali. In un modo tale da non indulgere mai nel giudizio e nella categorizzazione, ma del cogliere e sviluppare le risorse infinite che esistono in ciascuno di noi, e soprattutto far sì che queste risorse ricche di vitalità, di prosperità, di fecondità, di intensità, di piacere, anche erotico, ebbene, tutto questo dovrebbe forgiare la nostra esistenza, spingerci alla vita autentica comunitaria, alla quale l'esperienza del club può dare un contributo significativo. Ecco che allora se questo si diffonde delle nostre comunità, possiamo generare le condizioni per porre una moratoria definitiva, un tabù, nei confronti della guerra, dello spietato arricchimento, dell'appropriazione, della violenza e di tante altre condizioni umane generative di sofferenza. Il club si assume l'onere e il piacere di reinterpretare la multidimensionalità della sofferenza umana senza cercare alcuna causa remota che molto spesso diventa una sorta di autogiustificazione paralizzante. Il club cerca in tutti i modi di far volgere lo sguardo in avanti, ripeto, senza omettere il passato, ma cercando anche nelle tragedie e nelle macerie di quel passato un fiore che germoglia. Lì dobbiamo porre l'attenzione. In ottemperanza anche al principio del concetto di salute donataci dalla conoscenza umana e tradotta nella definizione proposta dall'OMS. Sono piccoli elementi sui quali dobbiamo costantemente tornare anche in questo dibattito sulle etichette perché credo che l'ecologia sociale antropo-spirituale abbia la capacità di non banalizzare questo dibattito o riportarlo a schemi riduzionisti. Ma proprio l'esperienza del club ci invita a entrare nella complessità senza giudicare nessuno ma facendoci protagonisti non solo che l'alcol è un fattore di rischio è una droga è una realtà tossica che ha delle conseguenze negative sul nostro corpo ma anche sull'ambiente inquina indirettamente l'alcol per la sua produzione non dimentichiamocelo questo allo stesso tempo non essendo proibizionisti e neppure antiproibizionisti possiamo testimoniare come gli esseri umani nella loro manchevolezza nella loro fragilità hanno bisogno costante di rivedere le proprie posizioni anche e soprattutto quando si fanno protagonisti di una ricaduta in una modalità esistenziale che alla fine si dispone verso la contrapposizione e armonizzazione non significa pensiero unico ma significa armonizzare la diversità del pensiero di ciascuno e attraverso questa armonizzazione costruire una vita autenticamente pacificata perché il tabù della guerra non riguarda solo gli eserciti o le armi riguarda anche alle infinite guerre che noi generiamo nelle nostre relazioni intime familiari sociali comunitarie nel mondo del lavoro anche lì si generano forme di guerra spinte dalla carriera dalla incomprensione affettiva e vedete tutto questo ci riporta a rivedere la vita del club come luogo non di perfezione o una oasi nella comunità nella quale rifugiarci ma il club come granello di senape che darà vita a un grande albero che è l'albero dell'esistenza quell'albero della vita che ci riporta a riconsiderare le nostre matrici fondative e a vivere giorno dopo giorno nella disponibilità della condivisione della costruzione di relazioni affettive amorose amicali conviviali nel rispetto della diversità buona giornata a tutti